Allora, il secondo pezzo è un pezzo che chi ci conosce tramite Facebook, per esempio conosceci io, che l'abbiamo messo, se lo canticchiano pure qualche cammino per strada o più, spero che nel minimo l'abbiamo arrivato. Ma direi, il pezzo è un pezzo che si intitola Hold Your Freeze. La giusta è fantastica. La giusta è fantastica. La giusta è fantastica. La giusta è fantastica. I'm away from here, I'm supposed to lie I'm out, oh, oh, oh Run your way to the farm Take the power from your show, it's mine I'll tear your last goodbye I'm out, oh, 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 oh I'm out, oh, 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 oh Right here, run away from my feelings And here's the man who tends to lie And to the top, there's a answer to my question Who's the time, who I'm ahead Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.